Il derby abruzzese dell'Epifania si colora di bianco-rosso-vastese. La squadra di Amelia vince la sfida di Ortona col Chieti 0-2, successo che matura nella ripresa, a griffarlo Pizzutelli e Palumbo e i play-off adesso non sono più una chimera. Eppure i nero-verdi con Traini, Sivilla e Sarrizzu dall'inizio largo a destra, la gara l'approcciano bene. Grande aggressività come vuole Di Meo, ma poche, pochissime conclusioni a rete. Il primo tempo è quasi senza sussulti, al quarto Fantauzzi disegna per Traini che sale di testa ma spedisce alto. Il Chieti manovra, Lavastese prova a pungere, Filippo Bardini è il più pericoloso. Al ventinovesimo dagli sviluppi di un corner fa correre un brivido alla retroguardia di casa, al trentatresimo invece direttamente da piazzato centra la traversa con una traiettoria che quasi inganna Bruno, non nel suo miglior pomeriggio. Il cliché rimane identico a se stesso, possesso nero-verde, fiammate bianco-rosse, come in chiusura di frazione, quando Vittorio Esposito, uno degli ex della sfida, chiude troppo l'angolo del diagonale Mancino e grazie al Chieti prima del duplice fischio. L'avvio di ripresa però determina il restante corso del match. Due giri di lancette e Pizzutelli calcia una punizione dai 30 metri, traiettoria potente ma centrale. A dare una mano decisiva alla Vastese però è la topica clamorosa di Bruno, pallone sotto le gambe e vantaggio aragonese che gela gli entusiasmi dei nero-verdi. Che tuttavia non si abbattono, Cardinali è provvidenziale nell'intervento su Traini, imbeccato da Camarà, prima che Dos Santos, nella sua ultima giocata della partita, si liberi di Chiochi e Brugaletta, mettendo troppa forza però nel lob che intendeva colpire di nuovo Bruno. Amelia richiama il brasiliano per Palumbo, Di Meo toglie Di Cillo, Camarà e Sarrizzu per Bratelli, Bacigalupo ed Energe, ma è la squadra di Amelia che quando affonda fa male, dialogo tra i due esposito al 66esimo, vittorio per Francesco, il cui tiro non inquadra la porta. Entra anche Franchi nel Chieti per Sarrizzu, ma è Sivilla da sinistra a mettere in ambasce la difesa Vastese, traverso reteso nessuno arriva a centroarea con Montanaro che in scivolata mette in corna, rischiando quasi l'autorete. E questo però è il momento del massimo sforzo della squadra di Pino Di Meo, Franchi al 72esimo si accentra ma il suo destro è strozzato, nulla a che vedere a livello di pericolosità con la biglia che Bacigalupo si ritrova sette minuti dopo, conclusione dall'interno dell'area di rigore a botta praticamente sicura, la sfera colpita come peggio non si potrebbe, pallone alto, Di Meo e il pubblico nero-verde si disperano e lo 0-2 a 3 dal novantesimo sembra essere l'ennesima conferma del vecchio adagio calcistico. Gli spazi per la Vastese diventano amplissimi e Brugaletta non regge nel corpo a corpo con il più fresco palumbo. L'ex Francavilla evita Bruno e chiude il match. La Vastese sale così a quota 29 punti, scavalca il Pineto fermato dal Fiuggi e domenica avrà un altro derby, stavolta all'Aragona col Giulianova. Per il Chieti momento decisamente no, 17 lunghezze in classifica e un girone di ritorno nel quale servirà una marcia completamente diversa. È una partita equilibratissima perché dal punto di vista del possesso, dal punto di vista del gioco penso che noi abbiamo giocato meglio di loro, però purtroppo l'episodio ci ha condannato a morte. Purtroppo è così, adesso a noi ci ha girato male, si alza la testa, andrà avanti, siamo una squadra, non siamo una squadra scarsa, sicuramente non siamo scarsi. Bisogna sistemare tutto perché manca ancora qualcosina dietro, perché il portiere purtroppo manca un'alternativa a lui perché non ce l'abbiamo, abbiamo un 2002, lo sappiamo. Il ragazzo ha fatto un grosso, fino ad adesso aveva parato, oggi ha fatto un grosso infortunio, grossissimo, ma più che altro è la mancanza di concentrazione che mi ha dato fastidio, perché non è il gol preso, è proprio la concentrazione su quella palla, bisogna stare cattivi anche su una palla innocua. Quando si fanno degli errori così gravi, uno li ho fatti pure da calciatura, alzavo la testa e andavo avanti con grande dignità. Sappiamo che dobbiamo lottare, abbiamo le prerogative per far bene, secondo me la squadra ci sta adesso. Quante possibilità hai a Chieti di salvarsi? 70-80%. Siamo più consapevoli delle forze che abbiamo, delle qualità che possiamo mettere in campo e di gara in gara la strategia viene applicata al meglio, come oggi, dove credo che tatticamente abbiamo fatto una partita perfetta. Si ragionava proprio su questo, lasciare il possesso palla a loro, soprattutto nella parte bassa, coprire bene poi le giocate dei giocatori più forti che hanno loro, soprattutto davanti, e poi sfruttare con la qualità nostra le occasioni. Anche nel primo tempo abbiamo avuto una vittoria esposita che è andata a fil di palo, ma anche un'altra. Potevamo sfruttare meglio il primo tempo, però devo dire, tatticamente è partita perfetta, non l'abbiamo praticamente mai rischiato. Abbiamo concesso qualche metro a loro, ma è quello che volevamo, l'abbiamo preparata così e l'abbiamo sfruttata al meglio, poi potevamo allargare anche con DOS dopo e anche alla fine col 3-0. Io credo che la squadra ha fatto un'ottima gara, ha fatto tutto quello che gli ho chiesto, ogni interprete in campo ha fatto veramente il meglio che poteva fare e credo che la vittoria sia stata anche giusta e meritata. Purtroppo abbiamo perso tanti punti nella prima parte di campionato e questo mi dispiace molto, però adesso da giocare di gara in gara l'obiettivo è quello di migliorarsi sempre e poter fare partite come questa, ma già l'avevamo fatta a Montegiorgio dove siamo stati recuperati all'ultimo minuto e potevamo chiudere già la partita sul 2-0. Però io credo che questa squadra deve prendere ancora più consapevolezza delle forze che ha perché ne ha tante e soprattutto può sfruttare al meglio ogni singolo giocatore importante che è in rosa.